Coprifuoco dalle 22, stop agli spostamenti in area a rischio, ampliamento dello smart working e mezzi pubblici a metà capienza. Sono alcune delle misure contenute nel nuovo DPCM del governo Conte che il presidente del Consiglio ha firmato a mezzanotte. La contrattazione con le regioni è stata lunga ma alla fine il pressing dei governatori che volevano misure valide uniformemente in tutto lo stivale sembra non aver dato esiti. Il governo infatti ha deciso di modulare le misure restrittive in base a 21 indicatori tra i quali chiaramente anche l'indice di contagio. Ci sarebbero dunque zone gialle, arancioni e rosse ed in queste ultime dovrebbero essere inserite Lombardia e Piemonte oltre a Valle d'Aosta, Calabria e Sud Tirol. Ci sarebbe qui un lockdown molto simile a quello di marzo ed aprile. Il coinvolgimento delle regioni comunque dovrebbe essere garantito perché i governatori partecipano alla cabina di regia sull'emergenza sanitaria ma nel DPCM si precisa che il Ministero della Salute emetterà le ordinanze di chiusura sentiti i presidenti delle regioni. L'Abruzzo dovrebbe essere incluso tra le regioni gialle la maggioranza dunque sostanzialmente non dovrebbe cambiare molto per la vita economico sociale della regione fatta eccessione per il coprifuoco dalle ore 22. Valide le misure nazionali cioè negozi che restano aperti anche parrucchieri barbieri ed estetisti chiusi i parchi tematici cinema i teatri le sale e i corner scommesse si aggiungono anche musei e mostre nessuna novità per lo sport ferme anche le crociere salvo quelle in corso dal 9 di novembre sospese tutte le crociere con navi battenti bandiera italiana l'accesso ai luoghi di culto e alle messe resta valido con i protocolli già in essere 100% della didattica a distanza per le scuole superiori per medie ed elementari resta la didattica in presenza ma con obbligo di mascherina sono sospese le prove prese elettive scritte delle procedure concorsuali pubbliche private e di quelle di abilitazione all'esercizio delle professioni a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati si è effettuata su base curriculare ovvero in modalità telematica oppure in cui la commissione ritenga di procedere alla correzione delle prove scritte con collegamento da remoto nonché ad esclusione dei concorsi per il personale sanitario ivi compresi ove richiesti gli esami di stato e di abilitazione all'esercizio della professione medica e di quelli per il personale della protezione civile i centri commerciali sono chiusi nel weekend all'interno dei centri si abbassano le serrande sabato e domenica per tutti i negozi eccetto alimentari farmacie tabacchi ed edicole ultimo capitolo quello dei ristori su pressing dei governatori conte sarà costretto ad allargarli rispetto alle previsioni il decreto sarà varato in settimana le erogazioni saranno tempestive assicura l'esecutivo